Qualche volta mi pare che sia successo ieri, altre volte molto tempo fa. Ad ogni modo, quello che è accaduto sembra troppo incredibile per essere vero. Tutto iniziò quando trovammo le energeme e diventammo Power Rangers. Bene, facciamolo! Incontrammo Keeper e cercammo le altre energeme con i nostri amici. Sledge, per rubarcele, ci attaccò con un mostro dopo l'altro. E alla fine... Sorpresa! Decise di farlo personalmente. Non posso muovermi! La energema rossa è mia! Non mi arrendo mai senza lottare. È il momento di scatenarsi! No! Sledge era stato sconfitto e i Power Rangers non servivano più. Così tornammo alla vita normale. Sono felice che il mondo sia salvo. Ora continuerò a cercare mio padre. Ma la mia energema mi manca. E mi mancano anche i Power Rangers. Sledge è stato eliminato. Ora è arrivato il mio turno! Ma la mia energema mi manca. Non ci cambia sì, non ci cambia il mio turno! È avicizzato. Siamo qui da settimane! Lasciateci andare! Non c'era Echol chiuso in quella cella! Il mio nome è Snide, ma potete chiamarmi Master! Il nostro capo è Master Sledge! Davvero? Puoi sempre raggiungerlo! Sledge è in passato! Dovete obbedire a me! O vi distruggerò! Non adesso! Per favore, scusate il mio alter ego. Snide è piuttosto... incivile. Smettila di dire cose stupide, Echol! Che cosa aspettate? Aprite le loro celle e portate degli snack! Dobbiamo celebrare la nostra libertà riconquistata! Ti bevi extolliti da quello! Ho parlato di snack! Non mangio degli snack da un milione di anni! Adesso le cose sono cambiate! Mi manca così tanto il mio sleggino! Ranch, riportamelo con la tua macchina per rianimare! La macchina funziona, ma per usarla ci servirà almeno un pezzetto di Sledge! Forse lei è un po' troppo triste per mangiare! Oh! Il mio cuore è vuoto! Anche il mio stomaco lo è! Eccoli! Certo, lo so che in passato ho fatto delle cose malvagie che potrebbero farvi pensare che io sia... molto cattivo! Ha distrutto completamente il mio pianeta! Nessuno di noi è perfetto! Non è così? Io sono perfetto! Perfettamente orribile! Io vi faccio una promessa! Il mostro che riuscirà a portarmi un energema regnerà sull'universo, al mio fianco! Se rimarrete, voi dovrete dimostrare una totale e assoluta lealtà a me! Altrimenti sarete liberi! Ora scegliete! Io voglio andare! Non posso restare qui senza il mio Sleccino! Allora perché l'ha mollato prima che la nave si distruggesse? Come ti permetti di criticare quello che faccio? Io... Penso che me ne andrò! Spero che non si offenda! Ha fatto! Buon viaggio! Ti mandirò una cartolina! O una palla con la neve! Mi sono sempre piaciute le palle con la neve! Ah! Lui sarebbe stato il primo a tradirci! E ora sappiamo tutti quello che succede ai traditori! È chiaro? E poi dicono che io ho un brutto carattere! No, Coda! Non c'è una lettera per te! Ce ne sono due! Grazie, amico! Andrò ai corsi estivi e prenderò lezioni di finanza! Non so se mi piacerà, ma i miei genitori dicono che è quello che mi serve! Non c'è alcun dubbio! Shelby studia per diventare una donna in carriera! Cos'è donna in carriera? Non ne ho idea! Ecco! Grazie! Ehm... Dino Burger, patatine, patatine, molte patatine... Che cosa? Tranquillo! Ho un colloquio con un nuovo cameriere! D'accordo! Dunque, avremmo bisogno di un cameriere che... Tu... Tu sei quel ragazzo! Potevano investirla! Le devo la vita! Per me è stato un vero piacere, signorina! E lei è quella ragazza! Mi hai salvata e non ti ho ringraziato come avrei voluto! Non deve preoccuparsi! È quello che avrebbe fatto chiunque! Vuoi davvero lavorare qui? Sì! Io sono appena arrivato da... Fuori città e... Beh, ecco, vorrei lavorare! Bene! Sei la persona giusta! Oh! Mi spiace! Scusa un momento! Shelby Watkins è a scuola... E Chase Randall è in Nuova Zelanda! Stai perdendo tempo! Quella donna è un Ranger! Distruggila! E prendi la sua Energemma! Lei non porta l'Energemma! Ad ogni modo non ne voglio solo una, ma otto! Hai mai sentito parlare di strategia? Ho già scoperto dove si trovano il Pink e il Black Ranger! Davvero? Ok, quando cominci? Prima è... Meglio è! Studierai sia contabilità che marketing! Non è fantastico? Sì, papà! Bello! Ma quello! È un Trello Bite Fossile! Si sono estinti da 250 milioni di anni! Possibile che nessuno l'abbia notato? Forse nessuno l'ha visto perché sono molto concentrati negli studi! Quello che dovrai fare anche tu! Sono fiero di te! Sarai la migliore! Grazie, papà! Ciao! Salve, ragazze! Vi ho spaventate? Ma cosa... Sorpresa! Travel the world, turn it upside down Keep on believing in us Till you come around Dei ghiaccioli Salve, Kendall! Cioè, Miss Morgan Mi è successa una cosa incredibile È davvero strano Cosa? Mi ha chiamato Tyler Ma all'improvviso è caduta la linea Io ho chiamato Riley Ma non risponde Non è il caso di agitarsi Vi preoccupate troppo Sono sicuro Che loro Stanno bene Ma ad ogni modo Sarà meglio controllare Giusto? Giusto Andiamo È sicura che il posto sia questo? Positivo Il GPS dice che la chiamata veniva proprio da qui Tyler! Io credo sarà meglio dividerci Dove sei, amico mio? Tyler! Tyler! Qui, presto! È opera di un mostro Ma Sledge è stato distrutto O forse no Vi ricordate di me? Arrivo! Ivan! Kendal! Sì! Il Blue Ranger Ha un altro bel trofeo! Libera amici subito! Scordatelo È questo tutto quello che sei fare Stupido cavernicolo? Cosa ne dici di rinfrescarti un po'? Sela! Vento ghiacciato Ranger congelato Che cosa? È sparito Vivix! Portateli a questi due Metteteli con gli altri Ci occuperemo più tardi Di questo codarto blu Charmy! Ci sei? Tu rispondere! Oh, Tyler! Bello, rivedere! Dove sono gli altri? Noi cercavamo te Mostro attaccato Noi senza energeme Hanno portato via Kendal e Ivan Dentro ghiaccio Era Ice Age Stava prendendo anche me Dobbiamo contattare Shelby e Riley Usando il dispositivo di ricerca Forse potrebbero trovare Kendal e Ivan Io ho chiamato Non rispondono È mia colpa Coda Coda Spiegami esattamente Come hai fatto a salvarti Ho tentato di combattere Contro ghiaccio Ha ricordato me Delle brutte cose Di molto tempo fa Coda Coda Secoli dopo Esploratori Trovano me Erano Kendal e Chase Oh Caspita Questa è l'energema blu Kendal con caricatore fiammeggente Dino Scioglie ghiaccio Caricatore fiammeggente Dino Attivato Ghiaccio Ha conservato me Per più di centomila anni Oggi Ghiaccio Veniva su per mie braccia Voleva prendere ancora Io Sfuggito a ghiaccio E Corso via Tu sei sfuggito al ghiaccio Salve amici Keeper Io Tanto dispiaciuto Dovevo trovare modo Di salvare Kendal E Ivan Non è colpa tua Ricordati che i Rangers Sono legati alle energeme E come te Sopravviveranno rinchiusi nel ghiaccio A meno che i mostri Non riescano a distruggermi Che succede Tyler? È Ice Age È in città Mi è venuta un'idea Però dobbiamo farci congelare Bloccati in ghiaccio Oh No 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 Non posso Io credo che sia l'unico modo per salvarli So che puoi farlo Koda Soprattutto per i tuoi amici Prima di affrontare il mostro Devi spiegarmi esattamente come hai fatto a sfuggire al ghiaccio Corri Dobbiamo fare presto Cercate i vostri amici Ma avete trovato la fine Pronto? Pronto Per salvare i miei amici Energia! Congelate! Ho sempre saputo che voi Rangers Siete delle teste vuote Portateli via Master Eccle Ho preso tutti e sette i Ranger Mi scusi Master Snide Vedo che si è trasformato Sì Adesso me ne occupo io Così quelli sono i Power Rangers Adesso sono solo cubetti di ghiaccio Questi due sono trasformati Ora le vostre energeme saranno mie È il momento di sciogliere il ghiaccio Che cosa? Quei Rangers ti hanno ingannato Nel ghiaccio ci sono soltanto le uniformi Così non hai preso un bel niente È impossibile Erano qui Siamo ancora qui Ma non dove pensate Siamo usciti dalle divise Salveremo amici Caricatore Dino pronto Caricatore fiammeggiante Dino attivato Cosa è successo? Certai Ti ringrazio Queste vi serviranno ancora Le nostre energeme Perfetto L'energeme La chiave del passato Del presente E del futuro E questo chi è? Sono Snide Prendi le energeme Sì signore Le ghiaccio e le distruggo Sarà l'ultima volta che dirà queste parole È l'ora dei Morpher Caricatore Dino Pronto Caricatore Dino attivati Energia Ha! Scamera il potere Power Rangers Dino charge Vivix A me Attacco Acciaio dino Armatura Vedi? I Vivix sono brutti Fianchi E puzzano Prenderò da solo Le energeme Non le avrete mai Useremo tutte le forze Per sconfeggervi Tutte le forze È quello che farò io Adesso Lama Power Esplosione arrafica Non preoccuparti Se il tuo cuore Batte in fretta Ranger Vedrai che tra un attimo Non batterà più Mi manca l'energia E adesso Loro non possono sapere chi sono Teste vuote Visto che cosa ho fatto agli altri Ora tocca a voi Esplosione arrafica Sei solo un grosso pupazzo di neve È il momento di un'ondata di prezzo Energia Morphe dino Raspica Questo non mi rinfresca Caricatore dino Pronto Unione delle armi Caricatore ardione dino Attivato Lasciate che vi dia una mano Lama di borgore Stoccata finale Red Ranger Lancio Arfione dino Colpo finale Il mio bellissimo ghiaccio Mi sta sciogliendo Sì Azione al mega raggio Mi sono mancato Il loro mega raggio funziona Caricatore dino pronto Convocazzate Caricatore dino Innescati Megazord plesio charge Attivato Unione degli zord Megazord plesio charge Formazione pachi Pronto Inverdino Attivato Impacchettiamo questo ghiacciolo Non avete speranze Razza di babbei Vive zord Attaccate Facciamo girare il megazord Zord pachi Palla distruttiva Ti gira la testa Ai sage Due eliminati Ne manca uno Convoco zord T-rex È il momento Rexy Unione degli zord Megazord plesio charge Formazione pachi rex Pronto Distruggiamolo Come siete in minoranza Insieme T-rex Raffica Non abbiamo ancora finito Tre Due Una Raffica galattica Ha sempre odiato le accoglienze calorose Mostro Eliminato Casa dolce casa Ragazzi Questo è molto meglio che pulire le stalle Devo ammettere che mi siete mancati ragazzi Anche tu mi sei mancato E volevo dire tutti Mi siete mancati tutti Koda Sì? Da quando sei rimasto intrappolato nel ghiacciaio Hai sempre avuto il terrore del ghiaccio Grazie per essere stato così coraggioso Io avevo ancora paura di ghiaccio Ma più grande paura Era perdere mia famiglia Principe Philip Sono corso subito Felice di rivedervi Rangers Speravo che voi non foste più necessari Ma il dovere vi chiama Rangers Adesso abbiamo otto delle dieci Energem Lo Zord Anki lo si è risvegliato Quindi sappiamo che l'Energem Acqua è stata trovata Corretto Milady Dobbiamo trovare l'Acqua Ranger E l'Energem Argento Che è la decima e ultima E non appena ci riusciremo Continuerò il mio compito di guardiano delle Energem Non possiamo fallire Diamoci da fare E l'Energem Argento